Qual è il suo concetto? Noi abbiamo una situazione molto chiara, noi sosteniamo l'Ucraina senza se e senza ma dal punto di vista finanziario, dal punto di vista del materiale che inviamo in quel paese, penso 100 tonnellate lo scorso anno di beni per realizzare infrastrutture elettriche, per riparare tutta la rete che era stata colpita dai russi e abbiamo già inviato come Italia nove pacchetti di armi, munizioni e strumenti militari. Però noi abbiamo sempre detto che non possiamo, anche perché la Costituzione parla chiaro, non c'è in Parlamento neanche una maggioranza favorevole ad utilizzare le nostre armi in territorio russo. Le nostre armi devono servire a difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina, quindi nessuna debolezza, nessun tentenamento. Lo sanno tutti, nessuno ci ha mai chiesto di cambiare atteggiamento, ma devo dire che anche all'ultimo consiglio affari esteri che si è svolta a Bruxelles la proposta di Borrell di togliere ogni limite all'uso delle armi europee non è stata approvata dal Consiglio. Quindi vuol dire che anche in Europa c'è una sostanziale prudenza, perché la Nato non è in guerra con la Russia, noi non siamo in guerra con la Russia, bisogna stare attenti noi a non provocare una escalation. Questo non vuol dire non essere fermi nelle nostre posizioni, noi sosteniamo la candidatura dell'Ucraina come parte dell'Unione Europea, come parte della Nato. Siamo per una conferenza di pace alla quale dovrebbe partecipare anche la Russia senza arrivare con una soluzione predeterminata che è, come voleva un'altra volta, la sconfitta dell'Ucraina. Questo non è accettabile, però vogliamo arrivare ad una conferenza di pace.